buongiorno a tutti biellese territorio straordinario e oggi siamo in un'altra porzione della nostra splendida collina biellese precisamente a tollegno le bazzerre questa volta il video lo vogliamo cominciare al contrario quindi partendo dal prezzo questa splendida villa che tra un secondo vediamo all'interno la proponiamo per soli 220 mila euro ed ora andiamo a vedere all'interno tollegno bazzerre una delle più belle località collinari del biellese e in questa cornice fantastica circondata da belle ville perché tutta una zona residenziale nuova oggi vi proponiamo questa villa che come avete visto dallo scatto precedente è completamente indipendente posizionata su di un giardino di circa 1200 metri quadrati la casa delle particolarità non comuni è una casa che ha tutto un impianto di pavimento radiante è completamente cantinata e abbiamo una zona giorno questo livello le camere sopra la casa è composta di cucina e salone in un ambiente unico questo piano è servito dal bagno sopra abbiamo altre due camere da letto il secondo bagno un grande porticato che comodamente lo si può trasformare nella terza camera da letto e come vi dicevo è completamente cantinata e sotto abbiamo la rimessa per due auto abbondanti più una bella tavernetta ebbene ecco c'è il primo piano della proprietà dove anche qui ritroviamo tutti i pavimenti radianti come nella zona giorno sottostante su questo piano abbiamo due grandi camere da letto un grande balcone un bel terrazzo che tra un secondo vedremo dove si potrebbe ricavare una terza camera e alle mie spalle chiuso da questa bella porta soffietto il bagno a servizio alla zona notte ed eccoci nel vano esterno che poco fa vi dicevo quindi questo terrazzo porticato che potrebbe chiudendo logicamente gli spazi aperti potrebbe essere un vano in più di questo piano qua come all'interno troviamo sempre un pavimento radiante logicamente adesso tramite una valvola è escluso quindi l'inverno non si va a riscaldare inutilmente ci sono anche qua i vari punti luce prese di corrente antenne per la televisione e guardate attorno noi che osi di pace e di verde che si ha attorno siamo nel piano cantinato della villetta che ha la stessa identica metratura del piano sopra è un piano importantissimo tenete presente che nelle nuove costruzioni questo cantinato non si fa più perché ha dei costi enormi quindi qui abbiamo il piano terreno il primo piano e tutto questo piano cantinato che è un locale sbombro importantissimo in cui è già stato predisposto il terzo bagno che è da ultimare inoltre all'esterno abbiamo una rimessa per tre auto bene allora riassumiamo siamo nella collina di tollegno questo vuol dire che siamo esattamente a 10 minuti dal centro di della città di biella come vedete il terreno è completamente recintato questa è la villa che proponiamo oggi avete visto al pieno terreno abbiamo la zona giorno con due ampi porticati sopra abbiamo la zona notte con un grande porticato che può essere trasformato e la casa è completamente cantinata da questo lato abbiamo la discesa per le auto rimesse siamo partiti dal prezzo lo ripetiamo perché sembra qualcosa di straordinario di incredibile ma questa villetta la stiamo vendendo per 220 mila euro è un prodotto che inoltre può essere completamente mutuato e oggi i tassi di interesse sono qualcosa di straordinario come il nostro biellese e noi di abita e potremmo annoiarci sempre in movimento ciao 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 Grazie a tutti.